Marco Speranza La primavera del Milan, la prima divisione da protagonista con il Pisa, cosa ti porti dentro di questi primi giorni d'avventura? È tutto diverso, a partire dagli allenamenti, dalla primavera a questa Lega Pro è diverso, però mi sto ambientando bene, la squadra mi ha accolto bene, è un buonissimo gruppo e cercheremo sicuramente di arrivare in alto in questo campionato e raggiungere la promozione.